Stanno diventando una situazione sempre più drammatica, lo è per i luoghi dove sbarcano, che sono ormai terrorizzati da un'invasione continuativa di persone che lasciano i punti di sbarco per invadere i paesi. Lo sta diventando da un punto di vista dell'organizzazione sanitaria. Io penso che non si possa continuare in un'operazione di questo genere che sta dimostrando di non avere limiti. E' una vera e propria invasione ormai e noi siamo allibiti dal modo di fare di questo governo. Un esecutivo che è assolutamente incapace di controllare il fenomeno, di dare risposte. È un ministero degli interni che davvero si dimostra assolutamente privo di qualsiasi programmazione efficace. Non si può andare avanti così, siamo solo all'inizio dell'estate, abbiamo avuto degli sbarchi finora che sono un record superiore finora a quello che si è registrato negli anni passati e anche nell'anno scorso. Immaginiamoci anche con le condizioni di mare calmo. Chi ha avuto la brillantissima idea di abolire questo reato, quindi il reato di immigrazione clandestina, pagherà d'azio prima o poi perché stiamo creando veramente delle situazioni nelle nostre comunità che sono insostenibili. Io non so come andrà a finire questa questione e non so neanche se qualcuno ha il posto della situazione. Questo buonismo che è estremamente radicato in alcuni soggetti porterà sicuramente a una tracimazione di quel bicchiere che oramai è colmo. E di conseguenza l'operazione Mare Nostrum si è trasformata nell'operazione Mare Vostrum. Quindi la nostra marina militare anziché tutelare i confini italiani non si è trasformata nient'altro che in una nave da crociera, in una flotta da crociera dove andiamo a prendere in acque territoriali altrui, quindi molto spesso libiche, andiamo a prendere gli immigrati clandestini che decidono di venire in modo clandestino, lo ripeto, in Italia. Il responsabile di questo è questo governo, in modo particolare Angelino Alfano, che ha dimostrato veramente di non essere all'altezza del compito che gli è stato assegnato. Poteva fare come probabilmente ha sempre fatto a scuola, ovvero sia copiare dal vicino, poteva copiare da Roberto Maroni che la situazione l'aveva sicuramente risolta in maniera più brillante.